Musica Pappa e megaprogetti sulla Statale 47 anche nel vicino Veneto. Si punta la messa in sicurezza della strada esistente. Quando si parla del traffico e della viabilità sulla Statale 47 della Val Sugana, da qualche tempo va sempre più di moda la parola ammodernamento e messa in sicurezza. Dopo il Via Libera agli interventi in Trentino, sul tratto tra Castelnuovo e il confine con il Veneto, ora anche in Val Brenta si farà altrettanto. Niente più spese faraoniche, basta project financing tra pubblico e privato. E con un investimento di alcune decine di milioni di euro, ora si sta lavorando per sistemare un tratto della Statale 47 nella Val Sugana Veneta. Il percorso interessato dai nuovi lavori è quello compreso tra Carpanè e Solagna, per risolvere il nodo dell'esistente semaforo. In che modo? Realizzando una galleria di circa due chilometri per bypassare la frazione, togliere il volume di traffico dalla strettoia e la riorganizzazione degli accessi di strade comunali e private. È prevista la chiusura degli attuali accessi sulla Statale 47 a San Nazario, con un nuovo nodo urbano e la Statale interrata per circa 200 metri. In arrivo anche una nuova rotatoria a monte della stazione di Carpanè. Costi e tempistiche sono ancora tutti da definire. Una strada, la super Val Sugana, che va ammodernata con interventi mirati e risolutivi. No a nuove strade, sia l'adeguamento di quella esistente. Con buona pace, come è accaduto anche in Val Sugana, per chi perorava nuove lingue di asfalto o nel vicino Veneto superstrade a pagamento.